ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono patricia di faremo un video su roblox nel gioco del topo ok visto che lo sono praticamente quasi portando anche su tiktok che lo sono portando molti li hanno già portato su youtube lo porto anch'io perché voglio farvi vedere come mi spavento io perché mi spavento tantissimo ragazzi non so perché anche se comunque come gioco non è che fa tanta paura però fa ansia molta quindi c'è leggermente è molto aiuto quante volte ragazzi scritto nei commenti quante volte stiamo dicendo ansia mio dio allora io io ragazzi questo lo faccio per voi il gioco lo faccio veramente per voi comunque quindi ragazzi lasciate like please perché sto spaventando anche per voi per giocare con voi per farvi vedere come mi spavento spero che ridete io in questo video ragazzi non avrò tanto da idra avrò più da spaventarmi però ok ci tengo a precisare che non arriveremo fino alla fine perché io una volta l'ho fatto ragazzi tutto fino alla fine però non mi ricordo cioè aspettate che non me lo caricavo ho dovuto farlo oddio già la copertina del gioco non promette bene oddio questo non era perché c'è una ragazza non riesco a uscire raga raga oddio adesso avete visto oddio cos'era col suono un po' fuda mi sto venendo l'ansia io disattivo il volume perché continuo sono stata l'unica ragazza a spaventarsi no ma che cos'era io non ho capito la voce dio per un certo momento avete visto che non riuscivo più uscire ragazzi mio dio no 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 oddio ragazzi non so cosa sono successo mio dio veramente vabbè ragazzi giochiamo ad un gioco perché mi viene l'ansia roba ti penso che non ci giocherò per un po' di tempo oddio che ansia che mi è venuto che mi è venuto veramente cioè asseditemi se non fa ansia questa cosa vediamo un po' giù la che dice Gesù dopo vi lo spiego perché questa cosa ragazzi io non è cioè avetevi avete visto ragazzi che subito non riuscivo mi sono spaventata troppo vabbè andiamo su tocca andiamo su tocca live che è un gioco più tranquillo dai insomma gioco tranquillo c'è una cosa ragazzi io chiuderei anche la la legislazione qua perché mi ho paura per andare avanti giochiamo a questo un attimo attacare il sal 1 4 che penso che sia molto più tranquillo di quell'altro gioco ragazzi io ho probabilmente paura è un po' giudizio con la voce no oppure l'ho fatto io ho troppo paura mi sono spaventata come è messo a fare giochi di giuglia perché almeno se sempre non si spaventa scrivete nei commenti ragazzi se è normale chi mi ha fatto così oppure no ragazzi guardate io non ci gioco nemmeno a giochi perché per oggi basta la registrazione va bene così quindi ragazzi io vi saluto ciao ciao